Benvenuto e benvenuta in questo nuovo video del laboratorio di Excel per tutti. Mi chiamo Damiano Causale e in questo video ti mostrerò come invertire righe e colonne in Excel. Bene, entriamo all'interno del nostro foglio di lavoro e vediamo il primo metodo per invertire righe e colonne. Ti mostrerò in totale tre metodi per fare la trasposizione tra le righe e le colonne. Dunque, seleziono l'intervallo di dati, faccio un clic sul comando copia, mi posiziono sulla cella E3 e poi utilizzando il comando incolla vado a fare un clic su trasponi. In alternativa posso utilizzare anche incolla speciale e poi applicare la spunta su trasponi e dare poi l'ok. Questo è il primo metodo. Passiamo al secondo metodo. Nel secondo metodo ti mostrerò come utilizzare la funzione matrice trasposta. Dunque, seleziono due righe e cinque colonne perché così è il numero delle celle, diciamo delle colonne e delle righe dei dati. Dunque, metto l'uguale, richiamo la funzione matrice trasposta, seleziono ora l'intervallo di dati e poi utilizzando la combinazione di tasti CTRL maiuscolo invio, confermo. In questo modo riesco a trasporre i miei dati. Appunto, vediamo la soluzione. Abbiamo detto, utilizzando la matrice trasposta, abbiamo dato il riferimento ai dati B3, C7 e poi confermato con il CTRL maiuscolo invio. Bene, vediamo la terza soluzione. Nella terza soluzione utilizzeremo la funzione indiretto assieme alla funzione RIF.colonna. Perché? Perché te lo dimostro subito. Ora inseriamo l'indiretto, mettiamo le doppie virgolette e poi la lettera B perché questa è la lettera della colonna. Utilizziamo l'operatore di concatenazione, ovvero la E commerciale. E ora RIF colonna, il riferimento alla colonna rispetto alla cella B3. Andiamo ad analizzare questo risultato e vediamo cosa ci restituisce. Premo il tasto F9, ci restituisce 2. A noi interessa che questo risultato sia 3 e non 2. Dunque, cosa facciamo? Aggiungiamo semplicemente un più 1 in modo tale da ottenere così l'indiretto della cella B3. Perciò sarà area all'indiretto. Diamo la conferma con l'invio. Andiamo ad estendere verso destra. Perfetto. E così abbiamo trasposto la prima colonna. Per trasporre la seconda colonna, andiamo a inserire nella cella E4 la funzione indiretto. Stavolta apriamo le doppie virgolette e inseriamo la lettera C. Chiudiamo le doppie virgolette. Andiamo a utilizzare l'operatore di concatenazione. E poi ancora RIF colonna rispetto alla cella C3. Dunque, questo... Andiamo ad analizzare un attimo il risultato di questa funzione. F9. Dunque, abbiamo che l'indiretto della cella C3 sarà ricavi. In questo caso non dobbiamo aggiungere un più 1. Dunque, chiudiamo la parentesi, diamo l'invio e poi andiamo ad estendere verso destra. Benissimo. Dunque, questi sono i tre metodi che potrei utilizzare. Vediamo la soluzione. Nel primo caso abbiamo ottenuto l'indiretto alla cella B3. Nel secondo caso l'indiretto alla cella C3. E questo ci ha permesso, ancora una volta, di invertire righe e colonne. Bene. Anche per questo video è tutto. Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti per rimanere aggiornato. E ti aspetto al prossimo video.